Si chiama Gracie Santo, è scritto G-R-E-I-C-E Santo ed è una bellissima e sensualissima ragazza brasiliana di 24 anni d'età. Possiamo considerarla dal mio punto di vista come una vera e propria sensualissima musa ispiratrice, una bellissima e affascinante ragazza che oltre ad avere una grande bellezza, una grande sensualità, ha anche una fisicità degna di nota. Ha avuto veramente un esplode, come si legge anche nel web, in primis come modella, in secondis come attrice, nella famosa serie televisiva Jane The Virgin, conquistando tutti gli Stati Uniti da me. E devo dire, devo riconoscere che questa ragazza ha del talento, un talento che va oltre ogni immaginazione, un talento e una bellezza florida e rigogliosa. Io ho in questo video semplicemente celebrato quello che penso debba essere celebrato di questa ragazza che trovo quindi reputo straordinaria, bella, affascinante, molto graziosa. Una ragazza che sa essere veramente piacevole in ogni modo, in ogni senso. Non ho l'intenzione chiaramente di, per così dire, rendere la privacy di questa ragazza, ma la mia intenzione è unicamente quella di dire che questa ragazza deve continuare così, perché ha tutti i numeri vincenti per diventare veramente una ragazza già famosa nel nostro pianeta, ma potrebbe arrivare veramente a livelli eccezionali. Bene, spero che questo video vi sia piaciuto, iscrivetevi, commentate, è un video che non vuole legare la privacy di resi, ma solo informare eventuali persone della sua bellezza, del suo fascino e della sua estetica sublime.